Trovo che la musica sia sempre di grande ispirazione e che addirittura possa aiutarti a scrivere meglio. Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Valenza, scrittore e filosofo. Bentornati sul mio canale Narrazioni e Vita. A me la musica è sempre piaciuta, in modo particolare la musica classica. Allora, oggi voglio fare un piccolo esperimento. Voglio cioè provare a vedere quali possono essere le similitudini tra il modo di scrivere dei grandi compositori musicali della musica classica e le modalità di scrittura, gli approcci alla scrittura. Io vi spiego i miei dieci modi principali, perché effettivamente posso dire di ritrovarmi in ciascuno di quelli che vi andrò ad illustrare adesso. Allora, iniziamo dal primo. Ovviamente c'è il metodo Beethoven. Il grande genio della musica occidentale è stato considerato spesso un misantropo, ostile a chi gli desse fastidio durante la creazione. Alieno da ogni gentilezza, è capace di prendere addirittura a uova la domestica e di grandi dimostrazioni però di orgoglio personale. Lo scrittore quindi alla Beethoven sarà in lotta continua con il mondo, convinto che soltanto la sua arte sia in grado di interpretare appunto il mondo e perciò stesso che sia l'unico approccio degno di essere ascoltato, o meglio, letto. Uno scrittore di questa tipologia potrebbe essere, per esempio, Aldo Busi. Ovviamente fate le debite proporzioni, insomma, tra le personalità e tra le epoche. Poi c'è il metodo Pergolesi. Non auguro a nessuno di essere come Pergolesi, se non altro per un motivo, perché il grande compositore di Iesi fece sulla terra soltanto una breve e fugace apparizione. Infatti iniziò a comporre a 21 anni e morì a 26. Però in quei 5-6 anni lasciò delle composizioni straordinarie, ricordate ancora oggi, e soprattutto un capolavoro della musica di tutti i tempi, cioè lo Stavak Mater, che poi addirittura venne riutilizzato da Bach in alcuni passaggi. Lo scrittore alla Pergolesi, dunque, decide tardi di iniziare a scrivere e non sa sfruttare bene il proprio tempo. Tuttavia il suo approccio rischia di lasciare ai posteri qualche cosa di molto significativo. Poi c'è il metodo alla Bach. Al grande genio della musica occidentale, non si può non riconoscere la sua grande capacità di scrivere innumerevoli tipologie di brani e soprattutto una grandissima quantità. Allora, diventa a pieno titolo il prototipo di quel tipo di scrittore che scrive in ogni momento utile della sua giornata. Lo scrittore alla Bach, quindi, ha sempre un foglio bianco accanto a sé, accanto al computer o alla macchina da scrivere. E un quaderno a portata di mano per prendere sempre appunti. Non appena però poi ha terminato un romanzo, se gli rimane mezz'ora decide di scrivere un nuovo titolo e inizia l'incipit di qualche cosa di nuovo. Non lascia mai scorrere troppo tempo tra una storia e l'altra. Poi c'è il metodo alla Rossini. Il geniaccio italiano ovviamente aveva una capacità musicale che tutto il mondo gli invidia, ritenendola non a torto, frutto evidente dell'estro italiano. E poteva permettersi di inserire addirittura tre stupendi e famosissimi temi musicali, per esempio, nell'ouverture del Guglielmo Tell, per poi non riprenderli più nel corso di tutta l'opera. Qualche cosa di veramente eccezionale e straordinario. Oppure poteva permettersi anche di non scrivere più. Ad un certo punto lui decise di non scrivere più musica e si dedicò alla cucina, così, il genio libro, no? Allora, prima di morire, poi avrebbe dato un ultimo tocco alla musica mondiale con la sua petite messe solemnelle, la piccola messe solenne che è anticipatrice del Novecento addirittura, giusto per far capire una volta ancora chi fosse, che non aveva dimenticato esattamente cosa fosse scrivere musica. Allora, lo scrittore alla Rossini è quello che decide di concedere la propria arte ai lettori solo per uno, due o tre decenni, un po' come ha fatto Philip Roth, che poi ad un certo punto ha deciso di smettere di scrivere. Poi c'è il metodo alla Verdi. Si sa, insomma, Verdi è il maggior rappresentante del genere operistico al mondo e sappiamo anche come le sue opere divennero simbolo della nuova Italia che nasceva dal risorgimento. Fu incrociato in modo esplicito in alcune delle sue composizioni, no? Questo tema. La sua musica ha un'eleganza che manca, per esempio, alla musica operistica di Wagner e che è divenuta simbolo del bel paese, assieme ovviamente alla musica di Rossini e di Puccini. Lo scrittore alla Verdi scrive a partire dall'attualità. I suoi romanzi non parlano mai di cose situate in un altro mondo, ma devono sempre far pensare a quello che è il contesto nel quale lui è obbligato a vivere dalla realtà dei fatti. È un po' uno scrittore verista, potremmo dire, un po' alla Manzoni oppure alla Verga. Poi c'è il metodo Schubert. Il romantico Schubert fu un altro compositore che morì giovane, purtroppo a soli 31 anni, ma non mi voglio soffermare su questo aspetto, o comunque non solo su questo. La brevità della sua vita, infatti, diviene significativa quando la si incroci con il suo metodo compositivo. Scrisse moltissima musica, davvero una quantità incredibile, dal più delicato romanticismo ottocentesco all'innovazione che lasciò poi il passo a Brahms e a Mahler addirittura. Veroponte quindi tra la musica per l'appunto di Beethoven e i successivi compositori. Autore anche di dieci sinfonie, rimase di dieci sinfonie diciamo quelle classiche, ma poi ce ne furono anche altre che scrisse come esercizio soltanto per archi, rimase tuttavia convinto fino alla famosa ottava sinfonia, alla incompiuta, di dover scrivere soprattutto per imparare e studiare, ritenendo inadatto all'esecuzione pubblica tutto ciò che gli usciva dalla penna. Solo a partire dall'incompiuta, per di più andata perduta e riscoperta diverso tempo dopo la sua morte, si ritene all'altezza dell'uditorio. Pensate un po'. Quindi lo scrittore alla Schubert è allora quello scrittore che è in continua rielaborazione stilistica, mai convinto di poter proporre i suoi manoscritti o i suoi dati lo scritto una volta per tutte a un editore, sempre convinto che ci sia da imparare, con il rischio però di non dare mai alla luce le proprie opere fino alla morte, fatto che andrebbe sempre evitato, se possibile, non la morte ovviamente, ma di avere i cassetti ricolmi di opere non pubblicate. Poi c'è il metodo alla Brahms, dovete sapere che Brahms, pur essendo un autore di musica meravigliosa, caratterizzato da temi moderni e nostalgici e di una grandissima finezza e anche nostalgia sotto certi aspetti, Brahms divenne famoso per la sua durezza nei confronti di altri compositori. Collaborando con il Conservatorio si trova a giudicare molti musicisti, il più famoso dei quali, di quelli che gli capitavano sotto le vanni, è Mahler, che criticò in modo sempre piuttosto forte e del quale non aiutò mai la carriera, così come non aiutò la carriera di altri grandi compositori. Lo scrittore alla Brahms allora è quello che genuinamente e ingenuamente è incapace di rendersi conto della grandezza altrui. Finisce così per criticare chi invece coglie l'aria del tempo che cambia e che prima o poi finirà per surtrazzarlo. Poi c'è il metodo alla Mahler, il compositore che preferisco tra tutti, che secondo me è la maggiore espressione sinfonica degli ultimi 150 anni. Mahler viveva un enorme cruccio, oltre ai numerosi lutti che purtroppo costellarono la sua vita. Cioè lui riusciva a comporre soltanto in estate, quando poteva affrancarsi dalla necessità di dirigere le opere e le musiche degli altri compositori per poter vivere in lui e far vivere la sua famiglia. In quei pochi mesi estivi si chiudeva in un bugigattolo, vero e proprio, in una capannuccia in riva ad un lago, per esempio, oppure in montagna, dal quale sarebbero uscite composizioni incredibili, strabilianti, previsioni musicali della bellezza e degli orrori addirittura del XX secolo. Lo scrittore alla Mahler, allora, è forse quello più diffuso. Prima, cioè, deve preoccuparsi di vivere, o meglio, di sopravvivere, e soltanto dopo, nei ritagli di tempo, potrà dedicarsi alla scrittura. Purtroppo questa è una caratteristica che riguarda la gran parte degli scrittori. Quindi è il metodo più diffuso in realtà. Poi c'è il metodo alla Wagner. Il metodo Wagner è tutto un mondo, perché la sua musica è sempre stata infrontata a costruire o ricostruire un'esistenza musicale parallela, quasi, che mostra un'altra dimensione che però si sovrappone alla nostra, capace di cogliere il cuore della vita umana e del suo mistero su questa terra, in connessione addirittura con il tessuto divino nel quale la nostra vita è immersa. Lo scrittore Wagner, allora, è forse maggiormente rappresentato dagli scrittori di narrativa fantastica, convinti da sempre di poter offrire una visione unica e mai veramente scoperta del mondo attraverso le sue straordinarie trilogie o eptalogie o chi più ne ha, più ne metta. Ogni parola di critica oltretutto allo scrittore fantasy esattamente come accadeva a Wagner è una rozza incapacità di capire. E poi, dulcis in fundo, non poteva mancare, c'è ovviamente la scrittura alla Mozart. Questo artista geniale, un altro grandissimo artista segnato da una vita molto breve, non si risparmiò praticamente nulla, scrisse qualunque cosa e riuscì ad innovare il genere precedendo Beethoven e aprendo in qualche modo la strada a Beethoven con la scuola di Vienna. Allora, lo scrittore alla Mozart è uno scrittore che è capace di applicarsi a qualunque genere letterario e a qualunque modalità di espressione riuscendo a trovare sempre con grande semplicità ed eleganza la soluzione migliore per raccontare le proprie storie. E tu in quale di questi metodi, di quali approcci ti riconosci, in quale compositore potresti ritrovare effettivamente la tua modalità di scrivere? Lasciamelo nei commenti e se ti è piaciuto questo video metti anche un mi piace. Mi raccomando, siete in molti che continuate a seguire i miei video, però molti di voi ancora non si sono iscritti al canale Narrazioni e Vita. Io vi invito a farlo, quindi iscrivetevi, cliccate anche la campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati sulle novità di questo canale. Adesso, in questa fase estiva, siamo un po' a riposo, quindi sì, escono dei video, due o tre video alla settimana, però siamo in un momento di calma. Vedrete che poi da settembre in poi il tutto riprenderà in maniera più decisa con le classiche tematiche che caratterizzano questo canale. Quindi non mi rimane che salutarvi e ciao e al nostro prossimo video.